Ciao, sono Stefania di Pietale di Riso, sono una wedding planner e mi occupo da circa 7 anni di organizzare matrimoni sia nella forma completa che anche solo parzialmente, curando alcuni aspetti a dipendenza di quelle che sono le esigenze delle coppie. Oltre ai matrimoni mi occupo anche di organizzare altre feste, eventi privati e commerciali, feste di compleanno, comunioni, cresime, battesimi, anche laboratori creativi per i bambini, allestimenti con i palloncini, insomma da me potete trovare tutto quello che occorre per organizzare un evento. Per concludere se volete rimanere aggiornati o dare un'occhiata ai miei lavori potete seguirmi sulla mia pagina Facebook, Instagram oppure sul sito web www.petalidiriso.com e leggere i miei articoli che escono ogni venerdì su Fashion Channel e Ticino Online. Grazie.